Ooooooooh! Taglio! Sempre con il nostro Ula-Hop! L'avevi già abbandonato? Povero! Dunque, da qui! Torsione! Torsione! On! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Spostiamo il peso e puntiamo un piedino! On! Due! Tre! L'Hop scende sempre di più! Possiamo portarlo anche alle spalle! Che va bene ugualmente! On! Due! Get ready! Ora! Cosa volete fare? 3, 2, 1 Facciamo la sirena! La sirena! Con su le mani! Guardate come siete diventate brave! Roberta vedrai che ce la farei anche tu! Due! 3, 2, 1 Lift! E... Anche dalla parte opposta! Già che ci siamo! 3, 2, 1 Vado! Work! Dai! Punta questo piedino Dania! Punta il piedino! Come non puoi destra puntare il piedino? Si che puoi puntare anche destra questo piedino! 3, 2, 1 Rest! Rest! Solo la up! 3, 2, 1 Pressione laterale del busto! Qui! Su! Solo da una parte! 1 2 3 4 5 6 3 2 3 1 Wrist! E... Cambio parte! La stessa è partita in quarta! Volevo? 3 2 1 Vado! E... Lato su! 1 2 3 4 5 6 7 3 2 2 1 Rest! Rest! E andiamo ancora con la nostra sirena! 3 2 1 Work! Eh? È che non abbiamo le mani in alto! In alto è più difficile! Dai in alto! Allora in alto! La chicca dice cosa cambia, allora niente! Mani in alto e via! Perché preferisce, preferisce! La chicca preferisce! La chicca preferisce! 3 2 1 Rest! No ma la Tania l'ha detto eh! Che a casa lo faceva! Eh! 3 2 1 Ha svelato l'arcano! Ha detto che a casa passava ore, ore e ore! E ore! Con Ula Up! Anche la Sara! La Stefania anche ha detto che da piccolina era solo lei e Ula Up! 2 Rest! La stessi ha detto che da piccola era pane e Ula Up! 3 2 1 Lato! E Lato! Alterniamo! Destra! Finistra! E Scendo! 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 2 1 Rest! Ed ora! Cambio giro! 3 2 È praticamente stretching eh! Sappiatelo! Che vi accontento! Che vi accontento! 3 2 1 Complete! E andiamo a terra questa volta! Terra! 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 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 28 28 21 22 Tra l'altro mi è venuto in mente anche un altro esercizio che potremmo provare a fare, molto divertente, dopo ci proviamo, va e non garantisco la riuscita perché mi è venuto in mente adesso, ma ci proviamo. E qui e lì e qui su, su, reso e forza, forza e semplicemente crash su, un, due, tre, Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, rest, rest, ed ora non facciamo la prova con l'esercizio, semplicemente tutte e due, tutte e due, tutte e due, tutte e due, e da una parte. Come va? Finissimo! Stop! Scendo, crunch, ma questa volta marciando, quindi salgo, scendo, salgo, scendo, e... Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, rest, e salgo ancora! Dai, dai! Vado! Sono gli ultimi esercizi! Cosa state facendo? Porta! 3, 2, 1, rest, rest! 3, 2, 1, rest, rest! 3, 2, 1, complete. Come state? Male? No, non so se riusciamo a tenerlo in piedi. No, non ce la facciamo, purtroppo non ce la facciamo. Niente, studierò meglio a casa. Mi spiace. Procediamo con 5 minuti di addominali. E gli ultimi, vedete, solo addominali, solo addominali. Questi erano addominali. Allora, da qui. 3, 2, 1, roll. Cranco, tocco il lato, scendo. Cranco, tocco il lato, su, su, lato, su, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, su, lato, su. Ed ora, su le gambette, semplicemente sforbito, va, sforbito, 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 8, 2, 3, 4, 3, 6, 8, 8, 7, 1, rest. Rest, rimango con le gambine qui, ora tocco con i palloni a terra e torno, tocco, su, e su, tocco, su, tocco qui, tocco, su, e questa mi piace da morire. Qui, mi fermo ed ora porto le ginocchia al petto. Vado, qui, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 3, 2, 1, rest. E ora, al completo, talloni, ginocchia, ok? Vado, scendo, su, scendo, su, e qui. Salgo, su, 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 e, su, mi fermo, ancora qui, e questa volta alterno il tocco con i talloni a terra, però alternate, ok? 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Continuo, 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 continuo. Vado avanti. 3, 2, 1, rest. Non plinth, ginocchia al petto. Respiro profondamente. Tuttalo con la schiena e mi siedo qui. Come va? Fatica? A me è sembrata molto rilassante. No, confronto, confronto lunedì, rilassantissima, eh? Vero, confronto lunedì, Paola. Questa era proprio acqua di rose. Su, giù, su, e fuori tutto giù. Bravissimi! Grazie. 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 Grazie a tutti.